Ci siamo? Ci siamo? Guarda un po', guarda un po', cosa ho combinato, guarda quanti bei palchetti. Oggi spieghiamo tutto il lavoro che è stato eseguito, come ho fatto, che cosa ho combinato. Mauro Berardi ci segue più tardi, grazie. Ciao Riana, ciao ragazzi, tante forbici, tante forbici, poco filo, tanto vigore, quindi oggi spieghiamo come ottenere questi risultati facilmente, perché meno cose facciamo e più sono semplici da gestire facilmente per ottenere una cosa del genere, partendo da zero, da Margotta, in questo caso è una Margotta. Sono partito da zero, vediamo un po' di spiegare cosa erano, c'erano dei germogli, sono diventati dei bei rametti, dei rami che ho piegato, uno è diventato un gin perché non serviva. Insomma, ci sono un sacco di osservazioni da fare sulla coltivazione, sulla gestione di tutto, dell'acqua, delle concimazioni, del sole, delle impostazioni e poi anche come mettere il filo e sfruttarlo al massimo, quindi meno filo utilizzato al meglio, soprattutto in queste situazioni qua. E non male. Siete già un pochino, Sergio, Giuseppe, Luigi, Stefano, Di Gioacchino, Orazio. Ciao Orazio. Orazio, ti sei preoccupato troppo oggi, un po' più calma, tanto non succede niente. Mauro Berardi più tardi, Oriana, Oriana, te lo dico in diretta, oggi ho controllato il tuo, l'ho anche fotografato ma ho dimenticato di mandarti la foto, l'olivastrino a cui eri interessata, sta reagendo bene. È un olivastro facile e quindi poi ti mando la foto, magari scrivimi, Oriana, Giuseppe Pranteda, Giuseppe Pranteda, passi da piante molto indietro a voler acquistare un mega esemplare di crespi, quindi vie di mezzo, ti consiglio delle vie di mezzo, piante da vivaio oppure pre bonsai da poco prezzo per poter imparare. Ciao Giovanni Liguori, ciao Assunta, Luca Cimarra, Matteo, Paolo Frenna, Matteo, Gino Galozza, sempre presente Gino, orazio, Matteo, ciao Matteo, seguirei stasera, una zanzara, che strano, non erano due. Quindi veniamo a noi, pianta, pianta composta da, in questo caso, diciamo che abbiamo quattro parti, la parte apicale, che appartiene al primo ramo, perché la pianta si suddivide in due rami, quello che va verso il basso e quello inclinato. Ok, quindi, questa zona vegetativa, tutta questa zona, che sarebbe il retro, che è costruita utilizzando un ramo che all'epoca era, si trovava qui davanti, si vede meglio da qua, ok, andava dritto su qui, ed era cresciuto tantissimo. Poi, abbiamo questa zona sul fronte, che è costituita da rami, che quando, che quattro anni fa, erano germogli, erano rami come questo qua, come questo qui, come questo, ok, germogli, tutti, tutti quanti, erano tutti germogli. E poi c'è la parte finale, che dà eleganza e movimento a tutto l'insieme, di cui avevo parlato che questa zona fosse debole. Ma sta andando bene, ok? Ha già delle ottime crescite, questo è dovuto alla filatura che avevo fatto, ah, scusa, alla potatura solo con le forbici che ho fatto un mesetto fa, ok? Solo che non bastava. Non pago, ho deciso di mettere il filo su, che fosse il meno possibile. Giriamo poco a poco la pianta. Il filo doveva essere minor quantitativo possibile, guarda che elegante, tutto, tutto ha senso, tutto ha un bel movimento, meno filo possibile. Ho usato alluminio, non ho filato tutto, solo, guarda, addirittura su questo rametto mi fermo qui. Il resto è stato fatto con le forbici e con le dita. In questa maniera, tutto quello che viene sotto viene eliminato. Ok? Tutto? Tutto? Ovviamente è un lavoro infinito, più la guardi e più viene fuori qualcosa da togliere. Ok? Però diciamo che in questo momento a me non interessava tanto mi interessava capire un po' le masse vegetative, dare... Ciao Simonetta! Ciao anche a Giuseppe! Ciao Simonetta! Che c'è? Si è sbalordita! Simonetta Loi! Anche tu devi lavorare, sei a lavoro mi sa, e quindi nel caso buon lavoro te la guarderai indifferita. Sono molto contento della pianta, molto 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 contento, perché diciamo che è una pianta molto difficile, molto difficile da impostare, molto difficile da immaginare e da creare. E quindi tutto il lavoro che io ho fatto sino ad oggi è stato sempre per ottenere il il massimo del vigore. Sempre. Prima di tutto, Piantari Tiziano, ciao! Ora, vediamoli insieme. I fronti possono essere tanti, mi piace, a me piace guardarla così, ok? Ma giriamo un po' di più. Guarda adesso. Sono evidenti questo jean bellissimo e questa linea che viene mantenuta anche a livello vegetativo. Il video schiaccia qua, però c'è tanta profondità dopo vi faccio vedere. Abbiamo il suo bel retro, poi questi rami sono abbastanza vigorosi, sono tutti nuovi e una parte che scende. Ok, la mia idea è proprio di metterla su una roccia, anche una roccia inclinata in questa maniera, in modo tale da accompagnare tutta la composizione verso verso sinistra. Ok? Adesso vi faccio vedere un po' giro il più possibile, non c'è tanto spazio. Vedi? Vedi quanta profondità c'è anche in appice? Questo è il fronte che vi stavo facendo vedere prima. Sembra tutto schiacciato, tutto sulla stessa linea, ma questo non è. Vedi? Tanta profondità. Dici abbiamo il retro. Adesso guardiamo nel dettaglio. Cosa molto importante. I rami devono essere movimentati. Anche qui sopra. Guarda questa linea. Col tempo, ogni volta che si mette il filo, si cerca di accentuare questi movimenti. Ok? Anche qua. Guarda qui sotto. vedi? Tutti i movimenti. Ogni volta che metti il filo bisogna cercare, anche qui, di accentuare il più possibile. Cosa non ho fatto? Guarda che bellino sto palchetto. Non ha un minimo di filo. Ok? Ora vi faccio vedere questo per essere migliorato. Questo è di disturbo. Vedi? Questo è di disturbo. Ok? Vedi che già migliora? Questo perché? Perché riusciamo a vedere la ramificazione sotto. Giovanni manco ci guarda dalla spiaggia. Andiamo profondamente a capire tutto quello che è stato fatto sulla pianta oggi. Tutto? Stefano Lodi ti piace? Adesso rispondo alla domanda che è stata fatta, che è stata fatta. Piantare Tiziano. Sviluppano bacche in questo periodo bacche vanno tolte. Sempre. Non se vuoi stimolare la crescita. Le bacche non ci stanno a fare niente su un ginepro. Ok? A meno che non sia piantato a terra e ti serva per ottenere dei semi. Va bene? Ciao. Sabato Angiero. Le dita e gli occhi mi vanno sempre su piccoli particolari da migliorare. Io non toccherei più nulla però ogni tanto le dita vanno per i fatti loro. Quindi ho parlato di filatura. In questo caso in alluminio. diciamo aderente ma non esageratamente aderente. Vedi che c'è poco poco di spazio qui poco poco qui c'è qualche spazietto. non esagerando con l'essere aderenti. Adesso vi faccio vedere su questo lato qui l'appice che protende verso l'osservatore. la parte posteriore anche lì abbiamo un sacco di ben movimenti. Adesso ti spiego il doppio filo Luigi. è anche qui. Allora è un sistema ad esempio è un sistema di ancoraggio quando ho bisogno di impostare un unico ramo e non voglio andare sul tronco. Si mette un doppio filo in questo caso continua per due tre spire e poi diventa unico. vedi e poi diventa unico. Vediamo altri casi anche qui. Vedi il filo che ho applicato qua? Non ho filato come si fa di solito questo e questo con un filo grosso ma ne ho utilizzato uno diciamo medio questo penso che sia un tre millimetri due e mezzo tre e l'ho ancorato in questa maniera è un sistema che ho anche qui stesso sistema questo perché perché questo era un ramo debole e io dovevo filarlo il meno possibile diciamo che ho messo il filo solo a quei rametti parecchio vigorosi questo 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 qua ma il ramo voglio che mantenga il tiraggio voglio che questa questa crescita diventi molto forte in genere i rami li filiamo a due a due come questo caso qua vedi questo è il solito o da sopra o da sotto dipende da come deve girare il filo dipende da come dobbiamo far girare il ramo quindi se il ramo deve girare in questo senso il filo lo metteremo in questo senso se il ramo abbiamo bisogno di farlo ruotare in senso anti-orario anche il filo dovrà essere messo anti-orario per quello che a volte si parte da sopra e altre volte si parte da sotto è chiaro chiaro no facile un bel sistema anche qui filo doppio è ancoraggio semplice te lo faccio rivedere ancoraggio qua giri sotto e poi metti il filo allora impara le regole e rompi le regole il filo ci sono 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 anche sicuro di poter fare il nome c'è ad esempio chi fa l'arici e pini da campo filo per specifico per bonsai alluminio e rame costa raggiunge dei costi ciao massimo dei costi molto alti questa persona grande grande bonsaista per i suoi pini da campo utilizza il ferro da carpenteria quello ricotto da legatura perché lo trova di diversi diametri e costa molto poco rispetto al rame l'alluminio ok l'importante è lui un professionista e quindi l'importante è ottenere il risultato soprattutto se poi coltivi in campo non è una cattiva idea secondo me spendere il meno possibile ottenere comunque un ottimo ottimo risultato perché chi sta modellando chi sta impostando è un ottimo professionista in questo caso io ho utilizzato alluminio perché essendo più maleabile più morbido più facile da piegare schiacciavo meno imprimevo meno forza sulla corteccia ok per mettere le spire meno forza rispetto ad esempio un filo di rame che essendo un po' più duro un po' più rigido anche se inizialmente morbido però una volta che tu fai gli dai le pieghe lo sistemi diventa molto duro e quando quando modelli il ramo mette maggior forza sulla corteccia quindi siamo ricordo a tutti che siamo praticamente in piena estate è un tipo è una impostazione non si fa ok io più che più che una impostazione ho voluto tutto è nato dall'idea di dare ancora più vigore a questa parte qui a questo ramo tutta la chioma doveva essere comunque potata e dal momento che potavo dal momento che potavo e sistemavo ho pensato bene di applicare del filo di alluminio mantenendo comunque un altissimo vigore vegetativo come lasciando anche se pulito lasciando dei rami senza filo qui ho piccato un tirante molti rami senza filo guarda questo non ha filo vedi tutti questi rami non hanno filo solo sul ramo principale anche qui sono arrivato a questo livello poi niente filo non ho filato tutto è evidente no quindi ho ottenuto tante cose insieme ho ottenuto spaziature ho ottenuto tanta aria sono riuscito a mantenere la vegetazione che è utile al disegno al design alla silhouette della pianta allo stesso tempo ho lasciato un ramo senza filo in modo tale che aumentasse il suo vigore cosa che sta accadendo quindi molto importante e in più mi sono fatto anche un'idea una sistemata un'idea della pianta finale quindi potrei già iniziare a cercare nel caso di una pietra potrebbe essere anche un vaso anche una pietra adatta o un vaso adatto perché a livello di masse vegetative ci siamo non c'è non c'è da fare ok non c'è da fare ci sarà ancora tanto lavoro da fare sulla ramificazione creare sciari man mano che ingrossano a cosa particolare questo che io ho trasformato in jean era un ramo come questo qui che è stato scosciato e questo è stato piegato verso quel lato questo fu piegato invece in questa maniera solo che tutta la massa vegetativa che avevo tutta la massa di verde che avevo qua mi nascondeva questo particolare con la vegetazione dietro e quindi ho preferito vedi tanto si vede si vede il verde ho preferito trasformare in jean questa parte ciao Nicola Cascione meglio rame o alluminio è meglio fare la cosa giusta al momento giusto rame alluminio qualsiasi tipo di materiale tu voglia utilizzare va bene se è giustificato in quel momento in questo momento il rame secondo me non era giustificato anche perché la pianta è in forte spinta ricordiamoci almeno me ne sono ricordato io che il fenicio nella mia zona dà il massimo della spinta in tutti i mesi dell'anno il massimo della spinta al massimo del vigore ce l'avrà a settembre nel mese di sette settembre ottobre cresce un botto tantissimo è inutile che io sprechi rame money per impostare leggermente per dare una piccola impostata ad una pianta che poi ad ottobre dovrò di nuovo togliere il filo preferisco buttare via alluminio piuttosto che che rame per via dei costi sì esteticamente sarebbe stato un pochino meglio ma non mi interessa pianta non deve andare di certo in mostra in questo momento quindi è giusto fare ciò che è più opportuno fare in quel momento chiaro chiaro concetto walter fabio e antonio berlincioni allora come come avete notato ultimamente riesco ad ottenere riesco ad ottenere compattezza nei ginepri fenici giusto questo l'abbiamo visto l'altro giorno ok questo non ha neanche un pochino di filo quello non ha nemmeno un pochino di filo l'abbiamo visto l'altro giorno ho eseguito solo tramite le forbici non è non è nel mio clima nella mia regione non è difficile ottenere ammesso che ovviamente io ho impostato un regime di coltivazione che sia ottimale in questo posto per i per i ginepri fenici ossia bardula bardula topsoil qui abbiamo una granometria non troppo grossa è una 5-9 millimetri il contenitore molto grosso non mi consente ancora di ottenere rallentamento di vigore sulla sulla chioma quindi galoppa abbastanza galoppa abbastanza anche se oramai questa pianta è da tre anni tre anni in questa cassa e quindi quest'inverno dovrà essere quest'inverno cambierò utilizzando questa granulometria mettiamo a confronto passerò da questa a questa è molto più piccola ecco così si vede vedi quindi passo dalla 5-9 alla 3-5 millimetri l'unico concime l'unico concime che sto utilizzando e l'ultimo l'unica fertilizzazione che sto utilizzando è un organico organo minerale con titolazione npk 338 non sto dando né meso elementi né tantomeno micro elementi perché sono perché vengono ceduti naturalmente dal fenicio dal sì dalla bardula dal terricio che sto utilizzando questa cosa non la si può fare tanto con altre con altri tipi di terre perché non sono presenti con queste bilanciamenti ok nel momento in cui io avessi carenze non faccio altro che con l'aspiratore tirar via 2-3 cm dalla superficie di bardula vecchia dopo due anni e mettere nuova non ho problemi non ho carenze nutrizionali in questa maniera il ph dell'acqua che sto utilizzando e un 6 e mezzo di acqua del rubinetto quindi è presente cloro se il cloro è presente in quantità tali che noi possiamo berlo perché acqua potabile di certo non fa male le piante ok chiaro liquido gin assente penso che non lo metterò mai perché il legno in questo caso trattasi di fenicio yamadori duro duro è duro è duro quindi fa fatica questo è un gin che è stato fatto due anni fa e ancora non si è screpolato vedi non si è ancora spaccato quindi fa fatica ad invecchiare questo era preesistente il legno fa molta fatica ad invecchiare quindi non utilizzo liquido gin perché altrimenti se lo preservo non non riuscirò mai in questo caso non serve con nella mia col mio clima con gli yamadori di fenicio il liquido gin non serve assolutamente la vena potrà essere leggermente pulita con una spugnetta giusto per dargli un po' più di colore ok serve un po' più qui uso la un po' più di colore non è non è questo il momento di farlo insomma ciao marinaru ciao marina eh sì il mare la sardegna è così forse ci sono domande sicuramente devo parlare ancora di qualcos'altro tempistiche niente viene lasciato al caso diamo un po' beh no plastificato no plastificato no non tiene è Matteo dal lago ci riferivamo al il sistema io mi riferivo al sistema di Giacomo Papalardo ma perché ha spiegato lui che ha esigenza di impostare i tronchi di tantissimi pini e larici da campo in maniera più economica possibile e quindi dicevo che un professionista può anche inventarsi un metodo ma perché capisce ha già usato migliaia di volte alluminio e rame e quindi anche utilizzando un altro materiale capisce se possa essergli utile dal punto di vista economico e pratico tutto qua non che si possa usare qualsiasi cosa ma no ok alluminio e rame a parte il prezzo il maggiore diametro alluminio migliore per le incisioni del ramo Antonio Berlincioni se era una domanda non la capisco non c'è differenza non c'è una grande differenza quando tu sai metterlo sai impostare non c'è una grande differenza differenza lei già detta che nel rame puoi utilizzare un diametro inferiore ha un colore differente in più comunque su piante diciamo di alto livello su conifere di alto livello l'ideale è usare il rame cioè vogliamo vedere una conifera di altissimo livello con filata con l'alluminio ma proprio no assolutamente no deve andare di pari passo è la cosa da a Shunkaen da Kobayashi utilizziamo molto filo di alluminio per i pini ma non di certo per pini importanti per pini che subiscono la prima impostazione viene utilizzato tutto alluminio tutto quanto anche perché lo puoi tenere più tempo sul ramo e così da da la possibilità di mantenere meglio le pieghe l'impostazione Luca Cimara niente al caso ovviamente Giovanni Mango chiedi come mai mi sposto a una granulometria più piccola bella domanda molto bella e qua dentro abbiamo un quantitativo di terra facciamo assieme io non l'ho fatto il calcolo più o meno grandi linee c'è 34 30 3x3 9 circa 30 litri ok quindi da 30 litri dobbiamo passare a 15 litri allora rispondo alla domanda di Giovanni Mango come mai passo dal 5 9 al 35 devo passare da un contenitore per le radici da 30 litri a 15 litri ovviamente questi 15 litri asciugheranno se usassi la stessa granulometria asciugherebbero in meno tempo in questo momento io anche con alte temperature riesco ad irrigare una volta al giorno devo continuare con le massime esigenze ad irrigare una volta al giorno quindi diminuisco la granulometria diminuiscono i macropori i macropori sono gli spazi che stanno tra un granello e l'altro diminuisco i macropori diminuisco l'evaporazione di conseguenza diminuisco anche la dimensione delle radici dei capillari perché c'è meno aria dentro quindi irrigando sempre una volta al giorno la pianta avrà a disposizione giriamo la camera la pianta avrà a disposizione meno terra quindi meno concime meno aria meno acqua cosa succederà qui qui succederà che la squama diventerà ancora più piccola e i palchi diventeranno sempre più compatti man mano che diminuisce l'aria lì dentro la pianta tende a rallentare la crescita rallenterà tantissimo la crescita sino al punto che anche mettendo il filo su tutti i rami per due anni ci potrà stare sopra il filo già provate queste cose con i fenici e si potrà arrivare ad un livello tale che tu fai la pulizia sulla chioma una volta all'anno solo una volta all'anno talmente diventa lenta la crescita man mano che passa il tempo devi diminuire la quantità d'aria dentro al vaso sino ai limiti di vita vitali ovviamente quindi non è che poi passa talmente poca acqua oppure rimanga zuppo per tre giorni e tu debba irrigare solo ogni tre giorni no non conviene così perché poi hai dei problemi di funghi anaerobi e quindi il giusto quantitativo d'aria bisogna lasciarlo e questo avviene il ricambio d'aria avviene ogni qualvolta noi richiamo quindi meno inrighiamo meno aria nuova dentro il vaso e più problemi abbiamo quindi anche questo è il problema che quando si dice ma io con la pomice irrigo ogni tre anche cinque giorni è sbagliato perché all'interno l'aria l'aria diventa malsana è come una casa ogni giorno apri le finestre no ogni giorno arrivi casa apri le finestre tutti i giorni ecco la stessa cosa dovrebbe avvenire dentro il vaso che tu ogni giorno cambi l'aria nelle finestre questo niente gli occhi mi vanno basta non devo guardarla più quindi questo ti permette ogni giorno di avere il giusto ricambio d'aria e questa mantenga l'interno del substratto attivo è utile per la pianta e per i funghi aerobi e batteri aerobi e non anaerobi perché quelli aerobi sono utili la pianta quelli anaerobi no sono dannosi mamma mia come possiamo concimare io ripeto utilizzo l'npk338 spostatissimo sul potassio perché non mi interessa avere più crescita di così questa pianta è stata staccata 4 4 anni fa e c'erano tanti problemi estetici da risolvere tanti rami da far crescere e quindi ci sono voluti dal distacco 4 anni e adesso possiamo mettere anche direttamente in un vaso bonsaio su una roccia non mi interessa ottenere ancora più crescita perché significherebbe a parte che è difficile ottenerla si può ottenere ma comunque bisogna dare il tempo anche alle radici di sono tutto il tempo col cavo staccato della batteria ecco bisogna dare anche il tempo alla pianta di assestarsi alle radici e tutto il resto lunga spiegazione sulla crometria secco dell'olivastro sistemato come mi hai detto ah giovanni giovanni fai un post giovanni giovanni decico fai un post di quell'olivastro lì che non male la scosciatura sui rami quel tipo di lavoro io lo faccio in genere a dicembre che qua è per la pianta è un po' come un fine cosa ti posso dire è una specie di primavera è un fine autunno però qui l'autunno funziona come una grande primavera come dicevo prima a settembre sui fenici abbiamo il top sulla crescita della crescita e quindi una grande primavera il nostro autunno il mio autunno è una grande primavera quindi sarebbe la fine di questa grande seconda primavera dove ho tanto vigore diventa le temperature diventano basse la pianta un po' rallenta e l'umidità è molto alta l'umidità ambientale gli sbalzi termici sono minimi stando su livelli abbastanza bassi per la nostra latitudine diciamo tra i 10 10 15 gradi umidità elevata e ti permette di poter fare questi lavori di visione delle vene scosciature pieghe drastiche invece in questo momento come ho fatto su pianta su una pianta molto vigorosa sono riuscito a fare una impostazione generica anche se molto rifinita con pochissimo filo in modo tale da non fermare l'esemplare da farlo comunque lavorare bene altrimenti tende a disidratarsi a lavorare male se io dovessi fare un'impostazione pesantissima su una pianta non in forma sarebbe immediatamente attaccata dagli scolitidi perché si fermerebbe il flusso linfatico e le piante col flusso linfatico fermo in questo momento attaccano gli scolitidi sono degli scarabèi sia questa cosa vale sia per olivastri che per i ginepri fenici ciao davide qualche tecnica che non prevede il filo solo interventi con le forbici no non esiste non esiste perché veramente ci metti ci metteresti troppo tempo sui cambi di direzione poi la pianta comunque con la crescita tende ad andare sempre verso l'alto e non riesci a costruire una pianta vecchia ma avresti sempre l'impressione di una pianta giovane ok quindi questi rami che vanno verso il basso per forza di cose li devi modellare col filo altrimenti non ci riesci assolutamente assolutamente meno di così no no più avanti io man mano che passa il tempo e i rami lignificano cercherò di fare degli sciari nel momento che tu fai sciari nei rami difficilmente poi si muovono perché il legno diventa duro e non riesce più a muoversi una volta ottenuto questo allora si possono si può fare un'impostazione anche piccola sempre sui terziari in modo tale da dare tanti movimenti anche ai terziari non sembra ma agendo in questa maniera dando sempre il tempo alla pianta di sfogare di crescere più possibile si ottengono prima si arriva prima alla meta si ottengono molto prima come i risultati ah sì ok Antonio Berlincioni certo troppe domande no è giusto fare le dirette servono a questo se non ci sono domande una demo e finisce lì invece con le domande si riesce a a completare Marco Fazzone ciao Domenico Sacco ce l'abbiamo fatta Vitale Vitale Monaco da diversi mesi che annaffia alle 13.30 non sbagli non sbagli in nulla se non che c'è una cosa in questo momento dovresti variare perché praticamente arrivi a livello minimo di umidità dentro il terreno nell'orario più caldo quindi non è un problema che tu irrighi il problema è che ci arrivano giuste giuste e se per caso fai tardi e se e se per caso il giorno fa una sciroccata fa un vento forte caldo ci arrivano ancora peggio a quell'ora quindi anche a me piace irrigare verso l'ora di pranzo ma in questo periodo io sto irrigando la sera poco prima di fare la diretta quindi intorno alle 17 questo significa che tutta la notte stanno belle imbibite e nell'ora di pranzo come fai tu alle 13 ancora hanno una buona umidità nella zolla e non arrivano impiccate e non arrivano nel momento in cui io irrigo è vero che hanno un livello di umidità minimo nel terreno ma sono le 17 17.30 non sono le 13 cambia parecchio cambia parecchio ok ciao Enzino Oriana deve chiudere Luca Cimarra non puoi capire quanto mi sei utile Luca Cimarra tu sei comunque molto avanti sto vedendo i tuoi post hai belle piante mi hai fregato pensavo fossi più da come parli sei molto umile da come parli sembri un neofita che neofita non sei lavori bene il secco e hai ottimi esemplari nebulizzazioni sul ginepro non le faccio semplice non le faccio allora nebulizzo verso l'ora di pranzo queste queste le piante che ho in attesa di essere messe in in vaso ok queste nebulizzo queste nebulizzo loro per aiutarle tutto qua per per tenerle più più veloci possibile più pompate scusa più più pompate possibile non cercare il cavo ok quindi io non nebulizzo non mi interessa dobbiamo capire che i ginepri fenici in natura qua in Sardegna quelli che stanno in mezzo alle rocce la temperatura d'estate intorno alla loro chioma arriva intorno agli 80 e agli 80 gradi 80 gra 70 80 gradi forse anche di più e quindi non nebulizzo non ha senso grazie giovanni mango ci abbiamo anche sogna stella aureno e annaffio sempre per sole 21 le 21 vabbè dipende giovanni liguori sia ancora molto indietro come non fa tanto testo rispetto ai vasi che hai tu hai i vasi di coltivazione qualsiasi ora va bene quindi se parliamo di bonsai è un'altra cosa ok è proprio cioè bonsai scusami il termine su piante più evolute dove hai la chioma che lavora la chioma che chiede e tutto deve essere performante allora cambia terriccio più o meno compatto al posto della bardula no massimo corsi la bardula è insostituibile no non esiste io sinceramente non riesco a usare altro faccio bio e con altri terricci non puoi fare bio te lo dico al 100% se usi pomice non potrai mai fare bio mai non ce la farai mai perché ha un'asciugatura anomala dentro il vaso non ha una capacità di capilarità come quella che ha la bardula che ha la capacità di uniformarsi l'umidità dentro il vaso è come se i granuli comunicassero l'uno con l'altro e tendessero a armonizzare a non mi viene il termine l'umidità tendesse a bilanciarsi l'uno con l'altro diventare uguale ok questa capacità ce l'ha anche l'akadama solo che l'akadama dopo sei mesi si compatta e quindi hai sempre problemi di anaero anaerobia ok quindi io sono arrivato a questo terriccio sicuro non c'è questo momento non c'è qualcosa che possa essere più performante processi micotici perché micotici di che irrigando la sera alle 17 questo d'estate assolutamente no io irrigo verso sempre mi piace verso l'ora di pranzo più o meno tutto l'anno ma d'estate no d'estate lo faccio per i motivi che ho detto prima lo faccio un po' più avanti non ci sono problemi micotici quindi di funghi perché utilizzo un terriccio drenante semplice giovani liguori e anche io tutti siamo stati così ciao Tonino cos'altro posso dire esposizione il sole è fondamentale è importantissimo quindi girare la pianta 180 gradi a settimana importantissimo quantità di sole tantissima perché il fenicio è una pianta estremamente eliofila estremamente eliofila guarda che bel colore zero carenze zero parassiti ok tanto vigore movimento abbiamo tutto e divertimento ovviamente abbiamo tutto una cosa che volevo far notare così mi sembra di aver detto tutto quante ore di sole prendo i tuoi fenici tutte dall'alba al tramonto tutte più ce n'è meglio l'alba al tramite ok marco fenici olivastri pini lentisco mirto tutte le mediterranee lerica ore di sole a manetta più possibile più possibile ovviamente fenici che devono devi portare un altro conto l'ombraio ma sono piante appena prelevate e quindi cambia tutto lì ciò che è più importante è la sopravvivenza e il vigore dopodiché si passa alle impostazioni e le altre e le altre tecniche di bonsaizzazione ok prossima volta non so cosa faccio ma vediamo vediamo scrivete qua se volete sapere qualche qualche argomento che volete che io tratti e lo trattiamo ottimi consigli ne ho fitto mi sto appassionando sempre più massimo corsi grazie grazie a te e a tutti quanti vi saluto ci vediamo la prossima volta che sarà sabato se oggi è giovedì la prossima sarà sabato ciao